È il più piccolo e sperduto paese del mondo emerso. Posto a ovest è chiuso da un lato dal Sahar, il grande fiume, e dall'altro è minacciato dalla grande terra. Non vi è punto da cui non si vede l'altissima torre della rocca, di Mora del Tiranno. Essa incombe come un'oscura minaccia sulla vita di tutti gli abitanti della zona. Ricorda a ciascuno che non v'è luogo dove il Tiranno non possa giungere. Il regno, tuttavia, è ancora parzialmente libero. Relazione annuale del Consiglio dei Maghi, frammento. Grazie.